Con il direttore Andrea Luperini partiamo dalla classifica perché finalmente il Ponzacco è solo al comando sopra Pietrasanta di un punto e due punti sul Castelnuovo. Sì, soddisfazione, soprattutto soddisfazione perché alla fine ci ritroviamo soli al comando anche se, tengo a sottolineare, ad oggi serve a poco serve solo per il morale, vederci i primi da soli sicuramente a qualcosa serve per dar morale purtroppo a uno spogliatoio ma il campionato è ancora lungo da fine regione d'andata, tutto regione di ritorno quindi insomma è ancora presto perché si possa delineare una classifica vera e propria. Ecco, sotto di 2-0 poi una grande reazione e per poco non si poteva portare a casa anche tre punti questa squadra in alcune partite deve prendere gli schiaffi per svegliarsi. Sì, no, più che altro abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo siamo partiti molto blandi aspettando forse l'errore di loro quello che poi non è avvenuto forse era da reclamare un calcio di rigore nel primo tempo sul risultato di 1-0 che non ci è stato concesso poi un errore di Tamberi ci ha condannato al 2-0 l'espulsione di Barzotti penso che abbia pesato notevolmente nell'andamento della gara perché forse rimanere in 11 contro 11 in un secondo tempo fatto come l'abbiamo fatto potevamo forse portare via tre punti e non il punto solo però ricordiamoci che perdevamo certe volte bisogna anche contentarsi di quello che abbiamo fatto per recuperare il risultato perché ogni punto muove la classifica e come vedete anche questo punto qui ci ha portato al comando Ecco, si avvicina la finestra del mercato invernale ci puoi svelare qualcosa in anteprima oppure tutto a fine mercato che è il 17 dicembre se non sbaglio? No, noi siamo contenti di avere il gruppo che abbiamo i giocatori che abbiamo stiamo solamente valutando il fatto di qualche carenza di troppo in qualche reparto e quindi se è forse correggiamo qualcosa ma non credo di dar via a qualcuno ma sicuramente correggiamo qualcosa perché forse siamo un po' carenti in qualche reparto in qualche reparto no e quindi dobbiamo, in previsione della Coppa Italia in previsione di un campionato che sarà poi nel giro di ritorno un impegno importante qualcosa andrà fatto Bene, ringrazio